Ha rifiutato di fare le lemosine e per questo è stata aggredita e è caduto lunedì mattina ad una fermata del bus di via Maroncelli alla Stanga. Una ragazza di 20 anni di Casalserugo è stata avvicinata da una 42enne con precedenti per sostanze stupefacenti che le ha chiesto di consegnarle 2 euro. Al rifiuto della giovane la 42enne le si è scagliata contro, insieme a lei anche due tunisini che hanno insultato la ragazza. Nel parapiglia entrambe sono finite a terra e la 42enne ha anche tentato di rubare il telefonino. Sul posto è giunta una volante della polizia che dopo aver sentito i testimoni ha denunciato la donna più anziana per tentata rapida.